...che iniziamo diciamo che non ha una bella tornata, soprattutto la salute... ...io stasera andrebbe a mangiare al ristorante cinose con la sua fidanzata... ...stasera fortunatamente ce l'ho con mio figlio a casa con un piatto di pasta scelta, quindi il problema non me lo porto... ...domani sono a Vignola e a Vignola si mangia Emiliano... ...e dopo domani sono a Firenze e a Firenze si mangia Toscano...